Un paio di anni fa, parlando con un curatore e geografo palestinese, Anis Darachma, mi venne l'idea di creare pezzi di terra palestinese in varie parti del mondo. La prima idea era di fare questa azione davanti all'ambasciata israeliana a Londra, dove vivo, solo che per vari motivi non è stato ancora possibile e sono stato invitato qui al festival Linfa, quindi mi sono detto che porterò questa performance che si chiama Pro Occupation, quindi occupazione positiva, pro occupazione, che viene anche dalla preoccupazione di quello che sta succedendo nei territori palestinesi. Quindi sto creando pezzi di terra palestinesi, ovunque io mi trovo e questo progetto finirà soltanto nel momento in cui il conflitto finirà. Qui è Monticello Amiata e qui sarà Palestina. Adesso sto preparando il terreno e più tardi farò un'operazione chirurgica direi, la chiamano performance, ma per me questa è un'azione, è un intervento importantissimo. Io già mi sento che questo pezzo è molto importante perché appartiene a una terra che sta per scomparire e bisogna fare qualcosa.